Musica Ed eccoci qua ragazzi Bentornati sul mio canale Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla E siamo tornati su Dragon Ball Sparking Zero Siamo qui nel capitolo di Goku Con quelli che sono i due what if da fare nel capitolo 6 Vale a dire la verità di Zamasu E verso un terzo futuro Quindi ora vediamo di fare prima questo E poi tentare di fare l'altro Mi sono due what if molto complicati questi Vegeta usa tutta la forza rimastagli per salvare Goku e Trunks Dopodiché i tre riescono a tornare nel loro tempo Kaioshin fa fidità a Goku e gli rivela che Zamasu sta cercando lui e le sfere del drago A questa notizia Ui si ipotizza che lo Zamasu del futuro abbia usato le super sfere del drago Per creare Black Goku e rendersi invulnerabile Era necessario attendere un anno prima di usare di nuovo le sfere Ma il problema poteva essere aggirato con l'anello del tempo Zamasu però è un apprendista Kaioshin E non possiede un anello del tempo Tuttavia potrebbe averlo rubato al Kaioshin dell'universo 10 Se così fosse La vita del Kaioshin sarebbe il rischio Beerus e gli altri si dirissero immediatamente verso l'universo 10 Arrivano giusto in tempo per impedire a Zamasu di assassinare il Kaioshin Dopodiché Beerus elimina Zamasu usando il suo potere della distruzione Beerus gli informa che quando un dio elimina un altro dio Inevitabilmente si verifica un cambiamento nel continuum spazio temporale Confidando nelle sue parole tornano nel futuro per vedere come stanno le cose Ora devono vedersela ancora una volta con Zamasu e Black L'indipo Eriii Stai 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 Fai un'impegno! Fai un'impegno! C'è un'impegno? Non... C'è un'impegno di Son Goku! C'è un'impegno di lui. Ma il mio corpo è questo. È un'impegno. C'è un'impegno di Super Dragon Ball M'è un'impegno di D preponderanza di c'è l'impegno di Siosi. Mi haretà il un cuore di Dkimani. Si questo è un'impegno di Dammus, chi è una cosa che il suo cuore dei Gino di Dammus? Per me, io che era una cosa che è la Dammus. Quando i tuvi, Io abbiamo questo mondo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.